Dopo ascoltatevi il podcast, eh? Cioè, ho già immaginato l'enorme lavoro che facciamo qua Ceciliero, perché è già un ragazzo che abbiamo fatto un gioco, il gelo, il gelato e il gelato è veramente facile, a di là proprio del dare la programmazione che inizia un'ora, inizia un'ora, proprio anche il lavoro che fa un singolo, un episodio.